Lo scopo di questa lezione è fornire una proposta di soluzione dei quesiti della prova preselettiva per il concorso di insegnanti, in particolare delle domande di logica della batteria numero 1. La probabilità è che lanciando due volte un dado escano due numeri multipli di 3. La possibilità è che lanciando un dado esca un numero multiplo di 3, quindi o 3 o 6, è di due possibilità 3 o 6 sulle 6 complessive, quindi due sesti, quindi un terzo complessivamente. Al secondo lancio abbiamo sempre un terzo come possibilità che esca un numero multiplo di 3. Queste due probabilità sono statisticamente indipendenti, quindi non hanno relazione tra di loro, e quindi la probabilità complessiva si ottiene moltiplicandole. Un terzo per un terzo fa un nono. Se dobbiamo trattare la serie, completare correttamente la seguente successione numerica, una successione che viene indicata anche qui sotto, e la successione va analizzata cercando di vedere se c'è una qualche relazione nei passaggi numerici tra l'uno e l'altro elemento o tra elementi che distano due, per esempio uno dall'altro. Vediamo in questo caso che da 44 a 36 ho una diminuzione di 8, che è la stessa diminuzione che ho da 41 a 33, e quindi da 41 al numero incognito qui, che potrebbe essere 49 sommando 8, a 44 al numero incognito che è 44 più 8, che è 52. 52 e 49, quindi l'opzione 2 rispetto alle domande che sono state proposte. L'equazione, un'equazione fatta in via simbolica, non utilizzando i classici caratteri x e y, ma sostanzialmente va effettuata allo stesso modo. Ho un simbolo che è uguale a 5, se lo sostituisco posso sommarlo tre volte, quindi 15 al primo membro uguale, cancelletto più lo stesso simbolo che è 5, porto il 5 al primo membro e quindi diventa il 15 che già c'era, meno 5, 10, il cancelletto vale 10, la risposta proposta con il numero 2. Altra successione numerica, 11, 33, 21, eccetera. Successione numerica che andiamo ad analizzare, una successione numerica, sempre proviamo, in questo caso, da 11 a 21 abbiamo un aumento di 10, da 21 a 51 un aumento di 30, da 33 a 63 un aumento di 30, da 63 a 153 un aumento di 90, per simmetria cerchiamo di vedere se c'è possibilità che nelle soluzioni proposte si possa aumentare di 90, 30 era stata la prima volta, 90 anche questo, è il numero 51 e che quindi ci sia 141 come primo elemento e il secondo elemento, visto che qui abbiamo aumentato di 30, per 3 è diventato 90, per 3 270, che sommato a 153 fa 423, 141, 423 come proposta di soluzione, 141, 423 la risposta numero 2. Un'ulteriore serie o successione di tipo numerico, sempre a supporto la successione scritta sotto, 42, 86, 74, 32, 2, 2 buchi, 22, 66, in questo caso la relazione viene trovata non con un salto da 2 ma con un salto da 3, sottraggo 10, salto 3 e sottraggo nuovamente 10, proviamo a vedere se questo criterio può essere verificato, da 86 a 76 come proposta, confermato eventualmente da un salto di meno 10 che arriva a 66 a distanza di 3 e qui abbiamo un 74 che va a 64, non c'è l'ulteriore salto eventuale e quindi 76, 74 la risposta citata come la numero 2. Jack possiede 12 pipe apparentemente identiche, una delle quali è però più pesante delle altre. Avendo a disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarla? Se pongo sui due piatti della bilancia 6 pipe e 6 pipe, uno dei due peserà di più. In quel gruppo, vediamo se un grafico a supporto può aiutare, abbiamo che la prima pesata mi darebbe 6 e 6, individuo il gruppo più pesante, divido nuovamente sui piatti della bilancia in 3 e 3, individuo, quindi questa era la prima pesata, questa è la seconda, individuo il gruppo più pesante, faccio un'ulteriore pesata prendendo a caso due di questi tre elementi, ne metto uno e uno, ho la possibilità che essi siano uguali e quindi il terzo elemento, la terza pipa, è quella più pesante, se invece sono diversi, beh, quello che nella pesata risulta maggiore è la pipa più pesante. quindi le pesate complessive necessarie sono 3. Questa è un'affermazione, le esplosioni connesse alla ricerca del petrolio non danneggiano la pesca, le esplosioni sono cominciate quest'anno e la pesca del salmone quest'anno è stata la migliore degli ultimi anni, quindi un'affermazione che deve essere, dunque tutte le seguenti affermazioni rappresentano valide obiezioni a quell'argomentazione, quindi all'affermazione precedente tranne una. Le rapide variazioni della pressione dell'acqua causate dalle esplosioni fanno sì che i salmoni si riproducano più frequentemente, se quindi ci sono esplosioni l'acqua ha delle rapide variazioni di pressione che fanno sì che i salmoni si riproducano più frequentemente e quindi è probabile che la pesca al salmone possa essere migliore, quindi questa è un'affermazione a conferma dell'affermazione del testo e quindi è proprio questa quella che si deve scegliere. Prendiamone una a caso per vedere che risulta essere un'obiezione, il rumore delle esplosioni interferisce con la catena del cibo da cui altre specie di pesci dipendono. Questa è un'affermazione che potrebbe essere considerata come conseguenza di una possibile esplosione il fatto che la pesca al salmone possa andare male perché non viene più soddisfatta alla catena del cibo dei salmoni stessi. Veniamo al quesito successivo. Tutte le modelle sono alte, Enrica è alta, in base alle precedenti informazioni quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera. Enrica non è una modella, Enrica è alta quindi potrebbe essere una modella, non è detto che lo sia, quindi l'affermazione è falsa e nessuna delle alternative è corretta, questo lo vediamo alla fine. Tutte le donne alte sono modelle, no, sono tutte le modelle che sono alte, quindi è possibile che una donna alta non sia modella. Enrica è una modella nemmeno, è potenzialmente una modella perché è alta, ma l'affermazione iniziale non ci dà la conferma di questo. Quindi la risposta è la 2, nessuna delle alternative risulta essere corretta. Qui secondo me in quesiti come questi in cui ci sono parecchie informazioni collegate l'una all'altra sarebbe necessario scrivere qualcosa. Proviamo a non scrivere e a vedere dunque l'aereo in arrivo da Milano per Praga a terra a Roma alle 12 e riparta alle 12.30. L'aereo che va a Stoccolma parte 90 minuti dopo quello che va a Berlino che parte alle 12.00. Quindi abbiamo che l'aereo per Stoccolma parte 90 minuti, cioè un'ora e mezza dopo le 12.00, quindi alle 13.30. 40 minuti prima del volo per Stoccolma, quindi 13.30 meno 40 minuti, 12.50, parte l'aereo per Madrid alle 12.50. Dopo 10 minuti parte quello per Lisbona, quindi alle 13.00. In base a queste informazioni l'aereo che va a Lisbona, che è partito alle 13.00, impiegando un'ora e mezza, a che ora atterrerà? 13.00 più una e mezza, 14.30. La risposta è la 4.00. Quale delle seguenti alternative contiene una lettera ripetuta esattamente 5 volte? si può analizzare, insomma, in questo caso risulta essere la prima. Analizziamo la successione seguente, sempre con il supporto della scrittura sottostante. La successione è questa. In questo caso è necessario, a meno che uno non abbia già memorizzato una corrispondenza tra i numeri e le lettere dell'alfabeto, identificare ogni lettera con la sua posizione nell'alfabeto italiano. La V è in posizione 20, la S risulta essere in posizione 17, la O in posizione 13, la L in posizione 10 e la F in posizione 6. A questo punto analizzare la serie numerica. Da 20 a 17 c'è un salto di 3, da 17 a 13 un salto di 4, da 13 a 10 un salto di 3, da 10 a 6 un salto di 4, quindi mi aspetterei un salto di 3 e quindi mi aspetterei una corrispondenza relativa alla lettera dell'alfabeto italiano posizionata al posto numero 3 e quindi ABC alla C. Quindi come risposta giusta la 3. con referimento alla figura in alto, la figura l'ho riportata qui in basso invece, e individuare il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini dati. Numeri divisibili per 6, numeri pari, numeri divisibili per 30. Un numero per essere divisibile per 6 e per 30 deve essere pari, quindi i numeri divisibili per 6 e quelli per 30 sono un sotto insieme dei numeri pari, quindi i numeri pari in grande. Poi ci sono alcuni numeri che sono divisibili per 6 che sono anche divisibili per 30, per esempio 60 è divisibile per 6, ma anche per 30. E quindi risulta che nei numeri divisibili per 6 ci sono i numeri divisibili per 30 e quindi abbiamo una relazione insiemistica che ci dice numeri pari, insieme più esteso, che contengono i numeri divisibili per 6 e che contengono a loro volta i numeri divisibili per 30. Non esiste nessun numero divisibile per 30 che non sia divisibile anche per 6 perché 30 stesso è divisibile per 6. Passiamo al secondo riferimento insiemistico, calciatori, palloni e tersini. Individuiamo subito una differenziazione rispetto a prima, le tre categorie sono disgiunte, nel senso che i palloni non sono né calciatori né tersini, non sono persone, quindi palloni risulterà un insieme esterno, tra i calciatori ci sono i tersini, ma ci sono anche altri ruoli, quindi calciatori include propriamente l'insieme dei tersini, mentre palloni è esterno, quindi in questo caso il diagramma 2, i calciatori che includono i tersini e i palloni come elemento esterno. Vediamo un altro diagramma, telefoni, telefoni cellulari e auricolari, anche qui i primi due gruppi sono omogenei in qualche modo e gli auricolari invece sono differenziati come oggetto rispetto ai telefoni e ai telefoni cellulari, anche qui auricolari è un insieme esterno e i telefoni cellulari sono un gruppo di particolari telefoni e quindi abbiamo nuovamente il diagramma 2, nel quale l'insieme che contiene l'altro è l'insieme dei telefoni, quello interno dei telefoni cellulari e quello esterno degli auricolari. Questo problema, dunque, riviste, enciclopedie, prodotti di una casa editrice. Io sarei portato a pensare che tra i prodotti di una casa editrice ci debbano essere le enciclopedie e le riviste, ma se ho una rivista, a me viene da pensare che sia prodotta e non possa che essere prodotta da una casa editrice, come un'enciclopedia, cioè non mi viene in mente un soggetto diverso da una casa editrice che produca riviste o enciclopedie. Se così fosse, io mi troverei di fronte a un diagramma possibile di rappresentazione che dovrebbe essere prodotti di una casa editrice, enciclopedie e riviste. non mi sembra che ci sia questo diagramma tra le possibili soluzioni e l'unica possibile alternativa che si avvicina potrebbe essere questa se noi considerassimo la possibilità che riviste e enciclopedie possano essere prodotte anche non da una casa editrice. secondo me il quesito potrebbe in qualche modo risultare un pochino ambivo per cui io lo riguarderei un po'. Vediamo un'ulteriore domanda sempre per quanto riguarda l'insiemistica abbiamo medici pediatri medici pedanti quindi entrambi i miei medici quindi categorie omogenee infermieri pedanti gli infermieri non sono medici quindi la categoria è disgiunta tra medici pediatrici possono essere medici pedanti ma non tutti i medici pediatri debbono essere per forza pedanti e non tutti i medici pedanti sono pediatri per cui gli infermieri come categoria esterna e i medici pedanti facciamo un insieme più piccolo ma siamo fiduciosi e i medici pediatri con un elemento di accavallamento che è la sfortuna di avere un pediatra quindi un po' delicato che sia anche pedante. Veniamo di chiudere la registrazione